Il 5 gennaio si alzerà il sipario sulla sessione invernale del calciomercato con il Pescara deciso a non restare a guardare. Se si potrà migliorare qualcosa, la società non si tirerà indietro. Nelle ultime ore dall'altra sponda dell'Adriatico, in particolare dalla Croazia, è infatti arrivata una indiscrezione che vorrebbe il delfino vicinissimo all'ingaggio dell'esterno sinistro 21enne, Stip Vedroliac. Il difensore croato ha giocato con la formazione del Novigrad e sarebbe stato individuato dai dirigenti biancazzurri come il rinforzo ideale per la difesa dopo il grave infortunio corso a grillo che tornerà a disposizione solo nel prossimo torneo. Il giocatore, di cui si dice un gran bene, rappresenterebbe anche un investimento vista la giovanità. Nelle prossime ore potrebbe già arrivare la fumata bianca, ma la priorità resta soprattutto quella di sfoltire un organico numericamente fin troppo vasto con oltre 30 giocatori a disposizione del tecnico biancazzurro. Boldor, Fiorillo, Soe e forse anche Ciosic potrebbero cambiare aria. Il difensore potrebbe tornare alla Roma ed essere girato in Lega Pro. Fiorillo per giocare avrebbe qualche richiesta dalla B, mentre per Soe resta molto calda la soluzione latina dove dovrebbe andare a sostituire Ferdinando Sforzini prossimo ad accasarsi alla Salernitana. Fra i giocatori che fino ad oggi hanno trovato poco spazio c'è anche Matti Nilsen che però difficilmente lascerà l'Abruzzo almeno a gennaio. Da valutare anche la posizione di Bigir Bjarnason, che non è certo, resti in riva all'Adriatico. Richieste fioccano per Melchiorri e Maniero, che il Pescara ha però dichiarato incedibili. Il primo piace a Palermo e Sassuolo, il secondo a mezza serie cadetta. Anche l'albanese Memushay ha estimatori fra A e B, ma non si muoverà da Pescara. La prossima settimana la società ed il procuratore dell'attaccante Campano Maniero si siederanno a tavolino per il prolungamento del contratto del giocatore che dovrebbe legarsi al Pescara per altre due stagioni. Intanto la squadra tornerà ad allenarsi nel giorno dell'Epifania. Probabile la disputa di un paio di amichevoli prima della ripresa del torneo prevista per il 17 gennaio a Trapani.